Assessore Riccardi, un momento formativo importante organizzato dalla Regione su un tema che merita di essere più conosciuto? Il tema, parliamo del benessere animale, che secondo me è un tema importante, è cresciuto molto nella sensibilità della nostra società e come tale va affrontato, naturalmente con equilibrio, con i piedi per terra, però è un tema importante. Io sono venuto a salutare coloro che stanno lavorando rispetto ad aspetti pericolosi, c'è il tema dell'illegalità, il traffico illegale degli animali che è uno dei luoghi più reddittizi di quelli che sono gli eventi di possibile reato, c'è un tema di sicurezza, sicurezza della salute, sicurezza alimentare, c'è un tema anche di rischio, addirittura che possono essere utilizzate forme di epidemie, quindi c'è una vicenda attorno a questa questione che è poco conosciuta ed è importante che i professionisti ci studino dentro, entrino dentro con le loro competenze e poi che la società venga informata. Assessore, importante, tema qualificante, la cooperazione con la Carinfo. Noi abbiamo un confine importante, quindi Friuli Venezia Giulia e Carinza, su questo sono impegnati da tempo, io non posso altro che compiacermi di questo e ringraziare tutte le istituzioni che sono attorno a questo progetto, perché quando parliamo di queste cose parliamo sicuramente della regione, della sua direzione centrale della salute, ma parliamo delle forze dell'ordine, parliamo del sistema della magistratura, abbiamo ascoltato dell'esercito, sono tutte le forze delle istituzioni che si mettono insieme per affrontare un tema che forse è poco conosciuto, ma è molto importante approfondire.